Cari amici e cari amici, Buon H24, come sapete questa rubrica è sul sito del quotidiano di Sicilia ogni giorno, sabato 20 novembre è il giorno in cui esce il numero 3000 del quotidiano di Sicilia e oltre a essere 3000 numeri che sono stati editati in questi 31 anni ci sarà anche l'editoriale numero 3000 che ho scritto in tutti questi decenni. Non vogliamo celebrare un evento del nostro quotidiano, vogliamo semplicemente sottolineare che in questi 30 anni il quotidiano di Sicilia ha testimoniato l'evolversi di una storia che purtroppo è rimasta sempre uguale, perché da 30 anni la situazione socio politico economica in Sicilia non è cambiata per nulla, siamo sempre la regione con uno dei prodotti interni lordi più bassi d'Italia, il PIL della Sicilia è il 5,6% del PIL nazionale e ricordo che nel 1970 il PIL della Sicilia era il 5,6% di quello nazionale, quindi in 40 anni non è cambiato nulla, si continua a girare attorno alle questioni, ma non si fanno le riforme importanti e fondamentali che sono indispensabili per fare muovere l'economia. È notizia di questi giorni che tre imprese per i ritardi considerevoli di anni occorsi perché la regione rilasciasse autorizzazioni, hanno ottenuto risarcimento milionari, una di esse addirittura di 20 milioni attraverso una sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa. La riforma più urgente è quella della pubblica amministrazione, occorre che la regione formuli un piano aziendale nel quale scriva chi e come si debbono fare le cose. Ma per tornare al momento in cui sottolineiamo questa attività che è appunto quello del 20 novembre, voglio solamente ringraziare soprattutto i lettori che ci hanno seguito in tutti questi anni e voglio ringraziare tutti i collaboratori che hanno consentito a questo giornale di partire in maniera estremamente ridotta e di diventare oggi il primo giornale economico della Sicilia. La mia contentezza è di avere formato schiere di giornalisti, di dipendenti, di collaboratori che oggi si trovano in tante altre testate anche nazionali e anche alla RAI. Di questo sono particolarmente orgoglioso perché loro sono stati bravi e quel po' di insegnamento che io ho dato l'hanno saputo utilizzare al massimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.